Sicuramente l'utilizzo di questo servizio è caratterizzato da una serie di vantaggi. Vediamo quali sono. Valore legale La PEC ha lo stesso valore legale di una raccomandata con ricevuta di ritorno. Le ricevute che attestano i vari passaggi del messaggio tra due caselle certificate, infatti, possono essere utilizzate come prova di invio e ricezione del messaggio stesso, anche in caso di contenzioso. Sicurezza Le infrastrutture attraverso cui viene erogato il servizio e i protocolli sicuri garantiscono la massima affidabilità nella trasmissione dei messaggi certificati. Inoltre, ciascun messaggio certificato viene automaticamente criptografato e firmato digitalmente da parte del gestore, garantendo così la privacy e l'inalterabilità dei messaggi inviati e ricevuti e dei relativi allegati. Risparmio di tempi e costi Il costo annuale del servizio, infatti, oltre ad essere fisso e a garantire l'invio di un numero illimitato di messaggi, è nettamente inferiore rispetto a quello necessario per l'invio di fax e raccomandate con ricevuta di ritorno tipo tradizionale. In più, trattandosi di un servizio assimilabile a una normale casella di posta elettronica, consente un notevole risparmio di tempo per l'invio e il recapito dei messaggi, senza poi considerare il tempo speso per la compilazione e l'invio di una raccomandata con ricevuta. Comodità La PEC può essere considerata al pari di un servizio mail tradizionale, può essere utilizzata su qualsiasi dispositivo dotato di una connessione internet e può essere sia configurata sul tuo client di posta preferito, sia usata online attraverso webmail. L'app, infine, è uno dei modi più comodi per gestire la tua casella PEC e i messaggi certificati. Ora che hai scoperto tutti i vantaggi dell'avere la casella PEC, vai al prossimo video per saperne di più.